chat gpt bloccata in italia dal garante della privacy come sapete il garante della privacy ha ritenuto non intelligente lasciare utilizzare agli italiani chat gpt quindi ha preferito bloccare tutto in italia ma come tutti sapete in italia non funziona e esistono dei trucchetti per fare in modo che funzioni ancora vi faccio vedere bene come vedete chat gpt per ora non funziona quindi cosa facciamo utilizziamo una vpn io utilizzo surf shark per esempio scegliamo un paese qualsiasi basta che non sia l'italia io come vedete ho utilizzato la spagna e come per magia possiamo tornare sul nostro browser aggiornare la pagina e walla chat gpt funziona ancora facciamo una domanda e come vedete come se non fosse successo niente magia fatta quindi molto semplice ecco come far utilizzare ancora a chiunque chat gpt stato utile vero